L'ottava edizione di Cacio in Festa ha fatto registrare, come era prevedibile, numerosissime presenze nei caseifici abruzzesi che hanno aderito alla manifestazione. Pienone nelle quattro province d'Abruzzo, dove i visitatori hanno potuto degustare le eccellenze casearie, assistere alle produzioni dei latticini e visitare le aziende. La manifestazione, promossa dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, con il patrocinio dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo, ha permesso così di far apprezzare le numerose virtù di una delle produzioni agricole più importanti del territorio abruzzese. E ben vengano queste manifestazioni come Cacio in Festa, che aiuta ancora di più a far conoscere al consumatore la vera qualità dei nostri formaggi e derivati. Effettivamente noi questa manifestazione la facciamo con tanta soddisfazione, soprattutto per farci conoscere dai nostri clienti e dai nostri potenziali clienti chi siamo, che cosa facciamo e dove siamo. Noi abbiamo investito molto negli impianti e quindi questi impianti ci permettono di produrre e di conservare un latte abbastanza buono e di conseguenza i nostri formaggi hanno un buon risconto sul mercato.